La volta precedente ho detto che mi rimane naturale pensare a una famiglia con Giulio, adesso è passato un po' di tempo, quindi diciamo che siamo ancora più convinti e quindi io spero che questa sia un po' l'ultima estate in due, ecco, poi vediamo quello che succederà, però insomma ci sentiamo adesso davvero una famiglia. Wow, le poltrone qui a Verissimo portano molto bene. Speriamo. Allora stiamo a lungo, a lungo. E quindi c'è anche il matrimonio tra i progetti? Brava, chiedi a lui, chiedi a lui il matrimonio tra i progetti, so che insomma lei non ha ancora ricevuto la proposta concretamente. Ma con io però, e quindi... Vabbè, tu non devi riceverla, tu la devi fare. No, guarda, ho trovato la soluzione, il matrimonio per procura, è l'unico modo di guarda, manda un amico, manda qualcuno, così la risolviamo. Come nelle sop. Arriverà. Grazie. 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 Grazie.